Buongiorno a tutti, ringrazio la commissione del ROI e soprattutto Marco Petracca per aver organizzato questo congresso. Sono Emanuele Luciani, ho conseguito un master in osteopatia a Londra. Questo studio non è altro che la seconda fase di uno studio ben più amplio che poi includerà altre università e scuole nei prossimi anni. Questo studio è stato accettato per essere pubblicato su Plus One e in realtà si intitola Learning Environment, Preparedness and Satisfaction in Osteopathy in Europe, Depressed Study e tratta praticamente la percezione degli studenti verso la propria formazione e quanto sono soddisfatti dell'università dove hanno studiato. Ci sono moltissimi studi che parlano dell'ambito formativo ma in ambito osteopatico ce ne sono solamente tre. Uno è un report della FRET che va a investigare sulla preparazione dei neoleureati osteopati inglesi, il secondo è lo studio che abbiamo pubblicato nel 2014 che andava a investigare sulla preparazione degli studenti e la loro soddisfazione nell'università in Francia, Italia e Inghilterra e il terzo studio è uno studio da australiano che andava a investigare sul DREAM che è un metodo per indagare sull'ambiente formativo. Quindi perché è importante la formazione? Se visto che l'istituto influenza la preparazione percepita e una diminuzione della preparazione va a influenzare sullo stress dello studente nel periodo di transizione, ovvero quel periodo che consegue all'ottenimento del diploma di osteopatia o di master. Nel ultimo anno ci sono state varie associazioni, network, chiamateli come volete, che hanno cercato di standardizzare o creare delle linee guida per l'educazione dell'osteopatia in Europa e questi troviamo il WHO che sarebbe l'organizzazione mondiale della sanità, l'OSEAN che è un network e un altro è il FORE che è il Forum for Osteopatic Regulation in Europe e di certo ce ne sono poi anche altri. Senza dimenticare anche il processo di Bologna che è quell'iniziativa che permette a studenti o professori di muoversi all'interno della comunità europea per insegnare o studiare. Infine non dimentichiamoci che la preparazione è importante proprio per la salvaguardia della salute del paziente. Quindi questo studio andava a investigare sulla soddisfazione degli studenti verso l'ambiente formativo e verso la loro preparazione, andare a comparare i risultati tra le scuole dove l'osteopatia è riconosciuta e dove non è riconosciuta e infine andare a verificare se c'era una relazione tra dove avevano studiato ovvero tra la loro soddisfazione e la loro preparazione. Quindi nei criteri di inclusione c'erano tutti gli studenti all'ultimo anno di osteopatia e anche tutte le scuole a tempo pieno. Come metodo valutativo abbiamo usato un questionario che andava a valutare l'età, il sesso e la precedente esperienza in ambito manipolativo per poi andare a valutare se questi andavano ad influenzare i valori ottenuti. Inoltre abbiamo utilizzato il questionario di Roth ovvero il DREAM che poi è suddiviso in 5 sottoscale e queste sottoscale vanno ad investigare sulla percezione degli studenti verso l'insegnamento, gli insegnanti, la propria preparazione accademica dell'atmosfera e della vita sociale dell'istituto. Infine abbiamo utilizzato un questionario americano che è utilizzato sin dal 1978 per indagare la preparazione degli studenti e ci sono vari ambiti tra cui la conoscenza clinica, la conoscenza di base e management, le condizioni più comuni, l'etica, la professionalità e via discorrendo. Quindi abbiamo utilizzato i seguenti metodi statistici ovvero la media, la deviazione standard e l'errore standard con il percentuale di confidenza del 95%, la comparazione tra l'istituto e la preparazione era stata fatta poi con la nuova, l'analisi moltivariata per analizzare se vi erano dei coefficienti di confusione tipo l'età, il sesso e via discorrendo e infine tutti i valori minori di 0.05 erano ovviamente valori di significatività. Quindi i risultati vediamo che su 25 scuole contattate 12 hanno consentito a partecipare allo studio, di cui 9, scusate, 12 hanno risposto e 9 hanno consentito allo studio. Di questi vediamo 314 studenti e ben 243 hanno risposto al questionario. Quindi andando a vedere le scuole che hanno partecipato, due sono inglesi, una è francese, la IDEO, una è belga, la ULB, una è olandese, la Sutherland College e 4 sono italiane, ovvero la Cromon, la Cerdo, la IOT e l'ICOM. Questo qua è uno dei primi risultati, insomma vediamo che i studenti della BSO erano 75 e si può dire che il loro numero è superiore alle 4 scuole italiane sommate. La percentuale di risposta variava da un 100%, ovvero tutti i studenti dell'IOT hanno risposto e il 64% degli studenti dell'IDEO. L'età, scusate, il sesso variava da, era più o meno omeogeneo, anche se nell'IDEO e nel Cromono erano maggiormente ragazze, mentre nell'IOT erano maggiormente ragazzi. L'età variava dai 23 anni ai 28 e nelle precedenti esperienze in ambito manipolativo vediamo che nell'IOT non aveva nessuno una precedente esperienza, mentre nella ULB era l'85%. Nei risultati vediamo che la BSO aveva un punteggio, una valutazione minore da parte degli studenti verso il proprio istituto, ovvero un 105, mentre quelli del Sutherland College avevano quasi un 150. Nonostante questa differenza sia abbastanza ampia, si vanno però a collocare nel più positivo che negativo. Andando però a analizzare poi le varie sottoscale, ci rendiamo conto che gli studenti della BSO erano meno soddisfatti per quanto riguarda i loro insegnanti, la vita sociale, l'atmosfera e la preparazione accademica, con alcuni casi di eccellenza in due ambienti, nel Cromono e nel Sutherland College, quindi rispettivamente nella percezione del livello accademico e dell'atmosfera per quanto riguarda il Sutherland College. Infine andando a valutare la percezione, gli studenti della BSO di nuovo si sentivano meno preparati rispetto a quelli dell'Ecromon per esempio. Con questo grafico possiamo notare che abbiamo diviso le scuole in nazioni non riconosciute con quelle nelle nazioni riconosciute, quindi la BSO stava nel riconosciuto e nelle altre 5 che vedete. E ci sono valori significativi da ovvero le università o le scuole che stavano nelle nazioni riconosciute erano significativamente meno preparate o meno soddisfatti del loro istituto. Quindi andando a vedere poi le analisi multivariata lineare, ci rendiamo conto che l'età e la precedente esperienza in campo manipolativo non influenzavano né sulla preparazione né sulla soddisfazione dell'ambiente formativo, ma in realtà le ragazze erano molte più soddisfatte della loro formazione e molto più soddisfatte della scuola dove hanno studiato. Mentre per quanto riguarda essere in nazioni dove l'ostepatia è riconosciuta si aveva una perdita di 24 punti dal punto di vista della soddisfazione dell'istituto e di un 4 punti sulla percezione della propria preparazione. Con questo grafico di correlazione lineare vediamo che c'è una correlazione tra l'istituto dove hanno studiato, ovvero sulla loro soddisfazione e sulla loro preparazione. Quindi andando a vedere poi i risultati, i risultati variavano da un 105 a un 150 per quanto riguarda la soddisfazione dell'ambiente formativo ed erano più o meno in linea o simile con altri studi che sono stati fatti sempre di comparazione, come esempio Tokuda in Giappone e Varma in roba osteterica e ginecologica. Inoltre abbiamo notato che le classi con meno di 20 studenti tendono ad avere generalmente una performance migliore. Stewart nel 1997 afferma che le classi con meno di 20 studenti tendono ad avere una migliore iterazione, forse per una migliore iterazione tra studenti e studenti o tra studenti e professori. Infine c'è una correlazione sicuramente tra la soddisfazione dello studente verso l'ambiente formativo, ovvero dove hanno studiato, e verso la propria preparazione, come è stato dimostrato in vari studi, tra cui quello che abbiamo condotto precedentemente, che è stato poi pubblicato sull'International Journal of Osteopathic Medicine. Infine, l'ambiente formativo e la preparazione percepita è risultata migliore nelle università dove l'osteopatia non è riconosciuta e noi abbiamo supposto tre teorie. Il primo può essere un British effect, ovvero le classi inglesi stanno superiori, ovvero 75 studenti per la BSO, 44 per la ISO, probabilmente hanno portato verso di loro questo valore. O forse è perché gli studenti hanno una miglior capacità critica, tanto è vero che in Inghilterra gli studenti vengono preparati per criticare le evidenze ed anche la loro conoscenza, quindi forse sono più bravi a criticare se stessi e la scuola dove hanno studiato. O forse è perché le scuole private sono più attenti allo studente, quindi i professori sono più attenti verso lo studente, strategie di marketing e via discorrendo. Quindi questa ricerca può portare alcuni benefici all'interno della scuola, ovvero la scuola può prendere dei miglioramenti per migliorare il proprio programma curricolare oppure può valutare se dei cambiamenti che hanno fatto hanno portato a dei benefici. Infine comparare diverse scuole può produrre un benchmark o delle linee guida, migliorando anche le polisi, le strategie e le azioni di ogni istituto. Questo studio è stato il più ampio in ambito osteopatico che è andato a indagare sulla preparazione, vi sono 9 scuole suddivise in 5 nazioni e in futuro saranno sicuramente maggiori, soprattutto dopo un accordo che abbiamo fatto con altre università. La percentuale era abbastanza alta tra il 64% e il 100%, però c'è da dire che nelle limitazioni questi questionari autocompilati risultano avere una poca validità, però è anche l'unico strumento che abbiamo per misurare questi parametri. Tanto è vero che può darsi che studenti poco preparati si sentano preparati o viceversa, studenti preparati non si sentono tali. Quindi Evans comunque si afferma che la capacità di autovalutarsi è una abilità fondamentale che addirittura dovrebbe essere insegnata. Infine la soddisfazione percepita potrebbe essere limitato all'ultimo semestre, infatti questo questionario è stato distribuito nel giugno 2014 ed era proprio per gli studenti che stavano per laurearsi. Infine in futuro prevediamo di fare altri studi per andare poi a indagare le differenze tra istituti pubblici e privati, se l'università ha un corso di problem based learning o problem solving oppure il trend dal primo all'ultimo anno del corso di osteopatia, inoltre fare ulteriori studi può produrre evidenze per riconoscere l'osteopatia in quelle nazioni dove non lo è. Per terminare anche fare un follow up ad un anno dal termine dello studio può aiutare e questa è la prossima ricerca che stiamo per iniziare nelle prossime settimane. Quindi per concludere la soddisfazione verso l'istituto e la preparazione percepita dallo studente sembra essere superiore se non simile alle scuole dove l'osteopatia non è riconosciuta. Tutti gli istituti hanno avuto dei valori più positivi che negativi quindi fa abbastanza sperare, però sicuramente sono necessarie molte più ricerche in quanto questa è la prima in quest'ambito. Infine c'è una correlazione tra l'ambiente formativo e la preparazione dello studente. Quindi vorrei ringraziare il COME che ha preso parte a questo studio e tutte le varie scuole tipo la BSO, la ESO, la IDEO, la Sutherland College, la ULB e le quattro italiane che appunto ci hanno aiutato a fare questo studio. Grazie dell'attenzione. Grazie. 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 Grazie.